Eravamo all'epoca, 1920, sulla spiaggia di San Pierdarena, che non esiste più, adesso c'è il lungomare Canepa. Tanti ricordi legati a questa società, ma quest'anno che stagione sarà per voi? Noi tradizionalmente partecipiamo a tutte le regate regionali e a quelle nazionali in imbarcazioni di tipo olimpionico. Abbiamo un'attività in questo momento principalmente sugli allievi e cadetti, una squadra che confido che aumenterà per le categorie superiori. Quali sono i vostri obiettivi per gli anni futuri? Certamente dare impulso ulteriore, come tradizionalmente è sempre stato per noi, all'attività agonistica del canottaggio su imbarcazioni di tipo olimpionico. Noi ci chiamiamo Canottieri San Pierdarena, non per caso, ma per decisione e per vocazione. E quindi abbiamo l'intenzione di riportare il livello dei nostri ragazzi e ragazze, anche nelle categorie superiori, a quello che è stato negli anni passati. Quindi riportarlo agli standard ai quali eravamo abituati una volta. Grazie. Grazie.